Riparte da oggi a Gioia Tauro e andrà avanti per tutta l'estate il servizio di trasporto pubblico deciso dal comune e destinato soprattutto agli anziani. La fruizione è gratuita comunque per tutti con l'obiettivo di garantire collegamenti dai vari quartieri con gli impianti balneari, con le spiagge. Diverse corsi al giorno di autobus effettuate da una società in convenzione sono previste a partire dalle 8 dalla stazione delle Ferrovie della Calabria, confermate al centro commerciale annunziata, sulla strada provinciale 1, al quadrivio Sbaglia, all'incrocio della statale 18 con Viale Curie, in piazza Duomo al quartiere Tre Palmenti, all'altezza del pontile a Prodo sul lungomare Budello, sul lungomare ancora in via Tripodi, in piazza del Marinaio in via Giovanni XXIII. Delle corse effettueranno anche dei percorsi speciali che interessano il cimitero, l'ospedale Giovanni XXIII e il centro ambulatoriale Metaurus, dove operano nelle ore antimeridiane e pomeridiane dal lunedì al venerdì diversi medici di base. L'iniziativa è stata decisa dal comune dopo il successo riscosso lo scorso anno e i consensi riguardano anche un altro aspetto. Viene facilitata la mobilità sull'area urbana liberando per certi aspetti anche le strade dalla presenza di autovetture con notevoli benefici per il traffico. Il sindaco Giuseppe Pedà, particolarmente impegnato nei problemi legati al miglioramento dei servizi incontrando gli operatori dell'informazione, ha inteso ribadire che l'iniziativa riveste soprattutto un carattere squisitamente sociale con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze e alle aspettative delle categorie indigenti, alle quali l'amministrazione comunale guarda sicuramente con particolare attenzione per motivi facilmente intuibili, mentre non viene trascurato l'altro obiettivo di fare di Gioia Tauro una città veramente a misura duomo.